Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Il primo è questo, questo è World of Wheels sviluppato da un team italiano, è un gioco che al momento la demo non dà minimamente l'idea di quello che il gioco sarà perché mi è stato spiegato che la meccanica sarà quella di guidare delle auto un po' alla Mad Max ma in un'ambientazione di mappa libera dove dovremo ottenere delle risorse per poter migliorare la nostra auto, potenziarla e quindi sconfiggere i nemici. E sono delle meccaniche che ricordano, detta proprio dallo sviluppatore, da vicino un Banner Lord, un Mountain Blade Banner Lord. Al momento nella demo possiamo fare alcune cose, possiamo andare nel garage e vedere le auto, ce ne sono due disponibili al momento, impostando dei vari preset e ogni auto ha le sue caratteristiche. Possiamo andare a customizzarla un po' anche qui alla Rocket League e invece andando su Play abbiamo la possibilità di competere in un deathmatch. Vedete che qua ho fatto un deathmatch con la CPU dove banalmente si va e si combatte. Al momento il gioco necessita di magari qualche perfezionamento nella fluidità, nell'input lag e anche nel tearing a dire la verità, però gli dare fiducia perché comunque ha tutte le carte per poter essere divertente. Vedete soprattutto l'ambientazione, vedete che questa ha una doppia arma. Mi ricordo anche le Robot Wars che davano in televisione, insomma potete attaccarle così fisicamente o potete, è giocabile anche con il mouse, adesso io ho qui anche il pad, li sto un po' alternando. Vedete il tasto destro, do questa spinta qui e invece sparo col cannone, c'è questa sorta di automira che andrà a mirare. Vi ripeto per quanti fossero magari scettici e ci sta che questo del deathmatch è soltanto una demo perché, perché ve l'ho già detto prima, il gioco sarà ambientato in un open world dove andremo a farmare le risorse, potenzieremo la nostra auto per sconfiggere probabilmente in arena come questa, auto di altre fazioni e per poter magari conquistare qualche territorio, non lo so. Questo è un titolo italiano, infatti adesso non è, non credo sia ancora in italiano, ma lo sarà insieme anche alla lingua inglese. Questo è War of Wheels e procediamo ora con il secondo titolo. Ed ecco il secondo titolo, questo è Deathbound, un gioco di cui mi hanno diciamo incaricato come ambasciatore, in pratica mi hanno mandato la demo e presumo che il gioco uscirà anche in versione definitiva, mi manderanno il codice, è un gioco stile Dark Souls ma con delle particolarità. Ora iniziamo, ci troviamo in un mondo, quello che sembra essere un post-apocalittico, con delle particolarità. Mi ricorda molto Mortal Shell perché praticamente noi abbiamo modo, usando, anche qui soffre un po' di tearing come il gioco precedente, praticamente abbiamo la possibilità di passare a un personaggio o all'altro. Abbiamo questi tre personaggi, vedete che ognuno con le sue peculiarità, quindi con la possibilità dell'attacco pesante, dell'attacco leggero. Adesso io ho notato che non si può ancora saltare. Posso passare a quest'altro personaggio, quest'altro personaggio ha un altro tipo d'attacco. Vedete che attacca a distanza e poi abbiamo questo che invece, ah, mannaggia, non ho, ok, adesso sì. Questo personaggio che ha questo, non so se siano capelli o un turbante, che ricorda il turbante di un'importante armatura in Elden Ring e qua abbiamo altri tipi di incantesimo. Sono perpresso dal fatto che non si possa saltare, ma ci sia questa sorta di schivata. Il combattimento l'ho trovato buono. Vedete che c'è un tearing pazzesco anche qui, devo cercare di capire. Qua possiamo, vedete, assorbire, ed sarà una delle meccaniche principali del gioco, assorbire le anime di nostri nemici. Il gioco sarà in italiano, ve lo dico, giusto perché magari ve lo state domandando. E infatti c'è molto narrato, c'è molta lore, quindi potrebbe essere... Questa è una pre-alpha demo, quindi vedete che qua abbiamo un personaggio nuovo. Con un altro tipo di combattimento, quindi più da guerriero. La corsa però c'è. Il tearing veramente mi uccide. Andiamo avanti. Vedete che qua ci sono anche queste scene in cui ci viene messa di fronte la storia. Lo vedremo nel corso di quest'anno. Non so quando, ma il titolo è senz'altro intrigante, soprattutto perché se sarà, come dice anche la pagina Steam, in italiano potrebbe essere un'interessante alternativa indie ai per gli amanti dei Souls. Anche perché qua c'è tutta la storia. E vedete che qua mi dà la possibilità di capire come fare. Vedete, questo è il tipo di combattimento. Faccio un attacco pesante. E tra l'altro c'è anche quella barra di sincronizzazione, che vedete in basso, che si riempie man mano. E devo ancora capire che cosa serve, ma ovviamente mi riserverò questa cosa per quando il gioco uscirà. Intanto, vedete, graficamente è carino. Non è nulla di spettacolare, ma potrebbe essere definito migliore anche solo del primo Dark Souls. Bisognerà vedere quanto sarà approfondita la lore, perché in questi giochi comunque la fata padrona, ci può da fare. E ora sto vivendo nei panni di questo tizio qui, che poi potrò portare fuori da questo mondo ultraterreno e continuare l'avventura anche con lui. Gioco senz'altro interessante. Non so nulla a proposito di prezzi e cose varie, perché ovviamente il gioco deve ancora uscire. Questa è una pre-alpha demo, poi diventerà disponibile anche la demo, credo. Fatemi sapere intanto cosa ne pensate di questi due titoli che potrebbero rivelarsi interessanti nell'arco di quest'anno. Alla prossima e ciao ciao! Alla prossima e ciao! Grazie.